Ciao a tutti da AC News, vediamo il trailer di Se sei così ti dico di sì, subito dopo le notizie di oggi. Se sei così ti dico sì, da aprile al cinema. Diretta da Eugenio Cappuccio e interpretata da Emilio Solfrizzi, Iaia Forte e Belen Rodriguez, Se sei così ti dico di sì è la storia di Piero Cicala, ex cantante che ha avuto il suo breve momento di gloria negli anni 80 con una sola grande hit. Ora vive a Fassano di Puglia dove conduce un'esistenza modesta. Ma tutto cambierà quando verrà selezionato per partecipare a un programma TV di vecchie glorie della musica, dove conoscerà la bellissima e famosissima Talita Cortes. Il film esce al cinema il 15 di aprile. Ancora new entries nel cast del musical diretto da Adam Shankman, Rock of Age. Dopo Tom Cruise, Russell Brand e Mary J Blige, ora si parla di Paul Giamatti e Amy Adams. Il film è l'adattamento cinematografico di un grande successo di Broadway e le riprese cominceranno il prossimo maggio. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News. A presto. Laучra di Piero Ciclado Questa Ciclado Inizia, un paese di Puglia